Ben trovati, ben trovati a tutti, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Sentieri d'Amore, la nostra rubrica dedicata alla coppia, dedicata alla psicologia delle relazioni affettive. Mi scuso per questa voce cavernosa, ma purtroppo è dovuta al mal di gola che però non volevo mi impedisse di essere qua per il nostro appuntamento settimanale. Allora oggi vediamo qualcosa di molto molto importante, vediamo quella che è un'abilità e anche una pratica che può davvero fare la differenza tra una coppia che consolida il proprio legame, che cresce e che accresce la conoscenza dei partner rispetto a una coppia che viene inghiottita letteralmente dai conflitti e che non trova via d'uscita. Purtroppo sono tante tante le coppie che mi scrivono che hanno voglia di stare insieme, che sanno che c'è un sentimento forte alla base, ma che non riescono davvero a trovare una via d'uscita alla loro comunicazione conflittuale. Come si può fare? Che cos'è questo ingrediente magico per la coppia? Beh, si chiama metacomunicazione. Metacomunicazione. Che cosa significa metacomunicare? Che cos'è la metacomunicazione? Allora metacomunicare significa comunicare su come si sta insieme, su come si comunica. Quindi non fermarsi a dirsi delle cose, ma concentrarsi su come si sta insieme. Comunicare vuol dire parlare di qualcosa. Quindi noi possiamo comunicare su dove fare la vacanza. Io esprimo le mie idee, il mio partner esprime le sue. Allora io dico che voglio fare questo, mia moglie dice che non è d'accordo, poi dico ok facciamo sempre come dici tu, poi... e iniziamo a discutere. Che cosa significa metacomunicare? Significa in un secondo momento parlare di come abbiamo comunicato. Parlare non di quello che abbiamo detto, ma di come lo abbiamo detto, del perché lo abbiamo detto in quel modo, di quali erano le intenzioni, di cosa stavamo provando in quel momento. Quindi metacomunicare vuol dire un po' riprendere delle scene, è discutere. È vedere che cosa mettiamo in campo nella nostra comunicazione. Comunicare su come comunichiamo. Che sembra un gioco di parole, ma in realtà è un gioco, ma non è di parole. È un gioco che può essere addirittura, e lo dico per esperienza, divertente. Non sempre, molte volte è molto impegnativo, però può essere anche divertente. Dire ma hai visto che noi ci agganciamo sempre su quella cosa? Però tu quando hai quel sorrisino, sai che mi scatena. No, ma sai quando tu fai quello. Ed è fondamentale. Altrimenti non si discute mai del come si sta insieme. Si discute sempre dei singoli fatti, dei singoli argomenti. Ma vediamo quali sono i rischi della metacomunicazione. Perché tante persone mi scrivono che hanno l'abitudine a metacomunicare. Anzi, molte volte questo è uno dei rischi. Continuamente comunicare su come si dicono le cose, sul perché, sulle intenzioni. Però tutto questo diventa molto pesante, molto pericoloso, se si cade in una trappola specifica, che è quella di parlare dell'altro. Metacomunicare vuol dire riuscire a mettersi a nudo e parlare di sé. Parlare delle proprie intenzioni, parlare delle proprie sensazioni, parlare dei propri punti deboli, parlare di che cosa succede dentro di me quando tu, se mai, fai qualcosa. Invece, quella che molte persone chiamano metacomunicazione, ovvero parlare del nostro rapporto, parlare di come stiamo insieme, vuol dire accusare l'altro di ciò che fa. Noi metacomunichiamo un sacco. Io ogni volta gli dico, guarda che tu urli, quando parli con me urli, mi parli addosso, sei aggressivo, aggressiva, non lasci esprimere le mie opinioni. Quindi metacomunichiamo. Io sto metacomunicando su come comunichiamo. No, quella si chiama accusa. È un'altra cosa. Metacomunicare vuol dire guardare dall'alto la scena e dire ti va di capire che cosa ci succede in quei momenti? Allora io posso dirti che quando tu inizi ad incalzare, quando tu, non tu sbaglia ad incalzare, tu non mi fai parlare, quando tu inizi ad incalzare, io mi sento come all'angolo e quindi mi scatta una rabbia dentro. L'ho notato, ogni volta che tu non mi fai parlare, io provo a dire qualcosa, mi scatta rabbia dentro. Questa è metacomunicazione, questa è magia pura. Però sto parlando di me. Versione B, accusa, non metacomunicazione, accusa pura è allora tu incalzi e quindi se incalzi è chiaro che io reagisco in questo modo, mi monta la rabbia, ma se tu non mi fai parlare è normale che io mi arrabbio. Ti rendi conto di come vanno le cose? Cerchiamo di parlare di queste cose perché è importante parlarne. Ecco, questo è quello che di solito si chiama metacomunicare, ma in realtà è accusare l'altro. Allora, quindi un rischio è passare all'accusa, il secondo rischio è farlo per voler aver ragione. Aspetta, parliamo un po' di quello che succede tra di noi, perché vorrei che tu capissi delle cose, perché vorrei che insieme capissimo che tu sbagli determinate cose, perché non è per aver ragione, però se analizziamo bene, e credimi io l'ho fatto, vorrei farti capire che io semplicemente mi difendo perché tu mi attacchi e quindi, come dire, non posso fare altro. Ecco, questo è di nuovo accusare l'altro, non apertamente, ma soprattutto dire parliamo di quello che succede così vediamo chi vince e chi perde, chi ha ragione e chi ha torto, e chiaramente sono io quello che ha ragione. Vediamo invece che cosa può essere utile fare con la metacomunicazione. Io ho un compito, un'esperienza che do da fare a tutte le coppie che seguo, e credo che sia alla base di ogni rapporto terapeutico della coppia, sia individuare i trigger. Che sono i trigger? Trigger vuol dire grilletto, cioè vuol dire quel meccanismo, proprio come il grilletto di un'arma che fa scattare poi l'esplosione, il colpo. Quali sono i trigger? Questo vuol dire metacomunicare. Tesoro, caro, amore, bello, meraviglioso della mia vita. Ti va se individuiamo insieme, collaborando, non vediamo chi ha ragione e chi ha torto, ok? Ti va se individuiamo le cose che ci fanno scattare, i nostri trigger. Ed è meraviglioso vedere coppie che scoprono che, per esempio, i trigger possono, i trigger più forti possono essere, scusate la gola, parlare delle proprie famiglie d'origine. Quello è un trigger quasi, un evergreen, cioè quasi sempre. Oppure parlare di cosa ci dà fastidio che l'altro faccia o non faccia. Ogni volta che le coppie si incastrano su, vorrei che tu non facessi più questa cosa perché se sai che mi dà fastidio. Allora, non è tanto individuare quei comportamenti, ma individuare quegli argomenti o quelle situazioni, o semmai quelle persone che ci fanno entrare in conflitto. Quali sono i trigger della nostra coppia? Ecco, questo è proprio un'esperienza, non lo chiamo compito, non lo chiamo esercizio, è un'esperienza che ogni coppia dovrebbe fare. E se volete un consiglio è meglio farlo separatamente. Cioè io scrivo, secondo me, quali sono i trigger nella mia coppia con Francesca. Francesca scrive quali sono i suoi trigger e poi ci confrontiamo e molte volte ci sono delle belle sorprese. Tante cose coincidono, alcune cose l'altro non le riconosce, però se si collabora, cioè se si mettono insieme, tutte le risorse, tutti i trigger che si sono individuati, si può addirittura vedere come di alcuni io sono consapevole, di altri Francesca è consapevole e di alcuni ovviamente non siamo consapevoli. Quindi è un'esperienza da fare. Poi vediamo, questo è un altro esercizio, un'altra esperienza, il gioco del perché l'ho detto. Fermiamoci ad analizzare un dialogo, un dialogo in cui siamo entrati in conflitto, semmai, e togliamo quello che abbiamo detto. Tu a un certo punto hai detto che hai sempre ragione tu. Ok, perché l'hai detto? Bellissimo, questo inchioda alle intenzioni, inchioda a che cosa volevo ottenere, inchioda alle dinamiche. Queste sono le famose dinamiche comunicative. Perché hai detto quella cosa? Per esempio c'erano delle coppie che si offendono e si offendono anche pesantemente, anche davanti a me, ecco. E' molto bello, oltre che molto utile, fermarsi un attimo quando ce le ho davanti io lo faccio in presenza. Ma per una coppia può essere utile farlo dopo, dire tu hai sempre togliete il sempre. Quando litighiamo spesso mi dici perché tu non capisci queste cose, perché tu non capisci queste cose. Perché mi dici che io non capisco queste cose? Perché? Poi tu mi offendi, mi chiami sempre stupido. Perché hai bisogno di dirmi stupido quando litighiamo? Sentite come si condensa l'emotività. Sentite come cambia il clima passando dal tu non mi devi dire stupido, ah io stupido perché tu invece mi dici che non capisco niente ed è solo conflitto. Mettersi uno di fronte all'altro e dire perché hai bisogno di offendermi? E molte volte le persone, ve lo assicuro, si sciolgono e quando si sciolgono le persone si sciolgono i nodi comunicativi di quella relazione. A volte ci vogliono ore per capirlo, a volte ci vuole una settimana, due settimane, ci vogliono due sedute, però arrivare a sai io ho bisogno di offenderti perché mi sento non compreso da te, mi sento aggredito per difendermi l'unico modo che conosco è offenderti. Ma una persona che comprende questo e lo dice all'altro sta sciogliendo un nodo incredibile. Quindi il gioco del perché l'ho detto. Altro strumento utilissimo. E direi che possiamo concludere il video con un invito. la metacomunicazione fatta nelle giuste modalità non deve essere qualcosa di sporadico. Cioè ogni tanto metacomunichiamo. È molto molto utile se vogliamo fare uno strumento di crescita, uno strumento di confronto, un momento di dialogo sereno. Prendere un appuntamento. ma voi direte proprio un appuntamento intendi? Sì, sì, proprio un appuntamento. Cioè ti va se giovedì sera parliamo un po' dell'ultimo litigio. La cosa bella mi viene da sorridere è che queste sembrano cose da folli. Cioè litigare tutti i giorni sembra normale. Offendersi beh è una pratica abbastanza diffusa. E stare in silenzio per settimane molte coppie dicono eh sì e non riusciamo a non farlo. poi se gli dici prendete un appuntamento per discutere dell'ultimo litigio per discutere di come andando al cinema vi siete arrabbiati e del perché avete detto quelle cose delle intenzioni. Se si dice prendete un appuntamento per parlare di come litigate mettiamola così sembra da folli no vabbè ma che prendi un appuntamento vai al cinema alla pizza una bella litigata però non non per fare questo e invece ecco meglio queste cose strane queste cose un po' da psicologi che non le abitudini malsane che molto spesso in coppia abbiamo e allora direi che se vi va sperimentate il potere della metacomunicazione è stato provato in tutti i modi che la metacomunicazione è uno degli elementi che garantisce durata conoscenza consolida il legame fa vivere molto meglio le emozioni insomma ci sono davvero infiniti benefici della metacomunicazione non è una pratica difficile come tutte le cose va solo praticata e allenata quindi se vi va provate e scrivete quali sono i vostri impedimenti non scrivete è l'altro che non vuole metacomunicare perché già questo è un gioco di coppia abbastanza diffuso è sempre l'altro che rifiuta poi è chiaro ci sono delle coppie in cui semmai a me va di farlo l'altro proprio non è interessato ma anche in quel caso che sto facendo io per rinvogliarlo che se arrivo allora noi stasera dobbiamo metacomunicare dobbiamo prendere appuntamento per metacomunicare perché la metacomunicazione no probabilmente mia moglie mi manda a quel paesino molto famoso ok quindi cerchiamo di capire anche che strategia possiamo utilizzare per favorire ecco giocare anche un po' a metacomunicare con molta leggerezza non deve essere un momento di chiarimento pesante ok direi che possiamo concludere qui abbiamo detto abbastanza se questo video vi è utile e pensate possa essere utile ad altre coppie condividetelo mettete un like e iscrivetevi al canale attivate anche la campanella se volete essere tenuti aggiornati se volete essere aggiornati sui contenuti del nostro canale che non sono solo sulla coppia a proposito di questo vi ricordo che il canale è un vero e proprio progetto di divulgazione gratuita di contenuti teorie modelli tecniche soprattutto strumenti pratici per migliorare le proprie relazioni con se stesse e con gli altri e quindi per accrescere il proprio benessere se volete sostenere questo progetto potete farlo in due modi o con una donazione una tantum con il tasto grazie che trovate sotto ogni video e scegliete voi l'importo da donare o con un abbonamento di qualche euro al mese che ci permette di lavorare sempre meglio e sempre di più per fornire e divulgare gratuitamente i nostri contenuti detto questo noi ci vediamo la prossima volta grazie a tutti